Saluto a tutti, friggi! Shhh! Non fate cammini! Shhh! Non fate cammini! Shhh! Basta là! No, no, non potete entrare! Lui è dottore, è dottore! No, quella madonna! Ma se dottore dice due maroni! Nooo! Ma dove andrà? La pappa della madonna! Non poteva! E' qui! Gli ho appoggiato a sopra! Shhh! Non fare casino! Dai, che sai? Non fare casino! Sandro! Dov'è? Dov'è Spinello? Dov'è Spinello? Sandro! Voi si può! C'è ancora Spinello? Non possiamo... No, no! Ascolta! Io devo salutare il dottor Spinelli! Che mi ha gentilmente concesso alla laurea! Vogliamo andare al bar di mandato Spinello? Non c'è Spinelli? Porca la madonna! Scaccia boi! Saluta a tutti! Saluta a tutti! È stato bello! Mi voglio bene! Dammi una stretta! Sì! 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 Sì!